E' praticamente fatta. Ci sarà il ritorno in maglia Virtus Lanciano di Leonardo Davide Gatto, sempre con la formula del prestito di un anno per l'esterno d'attacco classe 92 di proprietà dell'Atalanta. Un colpo importante per la società rossonera, che riconferma quindi uno dei tasselli che ha fatto parte del gruppo della passata stagione e che raggiungerà i compagni di squadra in ritiro a Roccaraso tra il fine settimana e lunedì prossimo. Con Gatto il tecnico d'Aversa al momento può disporre di quattro esterni offensivi, se contiamo le presenze in rosa di Babatiam, Piccolo e Turchi. La società comunque sta portando avanti diverse trattative sul mercato. La prima è con la Roma a riguardo Gian Mario Piscitella, attaccante esterno che l'anno scorso ha giocato al Pescara nella prima parte di campionato. Ci sono poi tanti nomi sul tacquino del direttore sportivo Luca Leone, soprattutto alla voce e punte centrali. Ezequiel Enti e Giacomo Beretta del Milan, Pasquale De Vita del Verona, Gaetano Monachello del Monaco e Dudu Magni dell'Atalanta. Nomi da affiancare al neoarrivato Bruno Petkovic. A centrocampo invece si lavora per acquistare almeno due o tre giocatori che andranno a rinforzare il reparto, composto già da Paghera, Bastola, Di Cecco, Verna ed Agazzi. E anche qui si lavora a stretto contatto con l'Atalanta per Roberto Gagliardini, su cui ci sono anche il Perugia e lo Spezia. Trattative in corso anche con la Fiorentina per Leonardo Capezzi, con il Milan per Marco Pinato, con il Sassuolo per Alessio Vita ed infine con la regina per lo spagnolo Sainz Maza.